Gianmarco Centinaio, la Lega Nord dice che la RAI è fuori legge, perché? La RAI è fuori legge perché in questo momento in Commissione di Vigilanza stiamo trattando il contratto di servizio, cioè il contratto che regola i rapporti e i programmi tra la RAI e lo Stato italiano, il contratto di servizio che dovrebbe regolare questi rapporti tra il 2013 e il 2015, da gennaio 2013 al 2015, ad oggi siamo a gennaio 2014, quindi abbiamo già perso un anno e ad oggi non si sa ancora esattamente quando verrà approvato questo contratto di servizio, quindi è altro che fuori legge. E a questo proposito dite che non ha senso pagare il canone di una televisione fuori legge? Certo, diciamo che nel momento in cui il Governo, il Consiglio di Amministrazione della RAI e la Vigilanza RAI non riescono a mettersi d'accordo sul contratto di servizio, non vediamo perché tutto questo debba cadere nelle tasche degli italiani e sulla pelle degli italiani. Il contratto di servizio è una cosa molto importante che prevede anche delle cose a livello proprio di programmi RAI importantissimi. Gli italiani si aspettano che venga approvato questo contratto, ma anche per una questione ovvia e logica è giusto che nel momento in cui io chiedo dei soldi agli italiani devo essere dalla parte della Regione. In questo momento la RAI non è dalla parte della Regione.